Ciao a tutti! Ciao a tutti! Sto girando in veranda a tutti i miei seri piacciono come sfondo della tenda un veranda aperto luce naturale è mattino Primo giro di saldi il giro di saldi saldi e non saldi Prima questo che ho già utilizzato che è questo Tutti in assun così e tutta intera e scendo con il cavallo a palazzo il pantalone a palazzo comodissima leggerissima l'ho usata in sera l'ho usata l'ho usata l'ho usata l'ho usata la paga è che viene da 16,90€ a 11,83€ poi mia mamma mi ha preso questo cardigan da sera mi ha preso questo cardigan qui, molto carino bianco con questi dettagli neri sono ripreso anche sul fondo, ha due taschine e rimane aperto l'ha spagato, 28€ ho preso questa maglietta cropped con il collo così l'ho spagata da 16,90€ ho preso questa maglietta cropped con il collo così 7,95€ a 4,99€ molto carina avevo intenzione di metterla con la tutina la jumpsuit c'è un'altra nera con le mani per risvoltare però era poco pesante ho fatto bene questo invece sempre nero vediamo, vediamo questo è tutto qua finalmente ho trovato i miei pantaloni quando avevo messi fuori non avevo trovato la taglia qui ho neri neri con la riga bianca e neri con la riga rossa bianca sono questi jog di Zara io ho grigi neri normali neri uniti neri con la riga bianca e neri con la riga bianca sono bellissimi jogger comodissimi io li uso tutto l'anno poi nell'estate è un po' troppo caldo però ne ho approfittato perché da 15,95€ a 9,99€ e adesso non ho potuto lasciare lì non ho potuto lasciare lì quindi qui Per niente. Ho preso sempre la Zara, da 1595 a 999, l'avevo già adocchiata però presso che io non l'avrei presa. E' una maglia maxi che ti fa da vestito, che userò subito in questa scritta qui, tutta lunga, c'è anche il color panna, mi sembra, non mi piaceva tantissimo, proprio perché è nera, tutto l'anno, come dire, sono freschissime, da 1595 a 999, che bene. La tutina l'ho presa da Mondo Risparmio, che è un nuovo negozio cinese e da Mondo Risparmio, ho preso anche queste due, queste due pacchette di salettine in vitine della Quando, che io ho una marca che provo solo da Tiretà, però adesso c'è anche questo nuovo negozio cinese a 1,25€ mi sembra, però sono 20 pezzi, ne ho approfittato. Alla coppia invece ho preso ritocco perfetto spray santana di tocco radici, nella tonalità nero, lo spray per la ricrescita. Adesso non posso fare di fame tutto il colore se poi devo solo fare qui. 9,90€. L'hanno fatta anche della testa nera, però io l'ora la posso usare perché è senza nickel. Ultimo twist, a 9,90€, da 11,90€, la acqua termale Aven, che io sono due anni che l'ho utilizzato tutto l'anno, va bene per irritazione solare, irritazione della pelle, come tonico, come un frescante, come spray fissativo, va bene per qualsiasi cosa. 9,90€. Sto cercando dei ciabattoni, perché adesso vanno quei ciabattoni di plastica un po' più alti per la fashion, però l'ho provato in diversi negozi, tipo Stradivarius, tipo Cinesi, tipo... però non mi piacciono, non mi piacciono sul mio piede. Allora, sto cercando di fare così. Investivo una barra da Rossella per altro, 26 euro, non so. e questo era il primo round dei saldi estivi 2018. Spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un bel bacio. Ciao, ciao!